Ciao a tutti, sono Eleonora Angelini e nell'anno scolastico 2015-2016 ho frequentato l'Accademia Dante Lighieri di Monza. Ho conseguito poi il mio diploma di maturità a luglio del 2016 presso l'Istituto Floriane di Vimercate. Mi sono diplomata nell'indirizzo socio-sanitario con una valutazione di 70 su 100. Ho svolto due anni in uno presso l'Accademia, il quarto e il quinto anno, perché appunto avevo perso un anno in scuola statale e per me la perdita di quest'anno rappresentava un problema perché avrei tardato nel realizzare i miei sogni, soprattutto in ambito lavorativo. Quindi volevo assolutamente porre il rimedio a questa cosa e perciò ho deciso di frequentare appunto un recupero anni. Quindi mi sono affidata all'Accademia Dante di Monza, dove ho trovato dei professori molto competenti e preparati soprattutto a guidare i ragazzi in questo percorso che sicuramente è un percorso difficile e impegnativo ma assolutamente non impossibile. Quindi consiglio a tutti i ragazzi che hanno l'esigenza di recuperare un anno perso, di frequentare l'Accademia Dante perché vedrete che sarete molto contenti di aver recuperato il tempo perso insomma. Io sicuramente se tornassi indietro rifare questa scelta.